vediamo la nostra avventura oggi sto provando la nuova gomma anteriore marca rinaldi comprata da claudio mio carissimo amico titolare l'azienda motoresse di cagliari andate a trovarli se ancora non vi conoscete ragazzi andate a trovarli forniscono il tutto per il fuoristrada moto da strada e quant'altro vi possa servire la motoresse di cagliari ve la consiglio vivamente oggi mi hanno dato in prova questa gomma anteriore rinaldi che fino ad ora si sta comportando benissimo nella misura 90 121 risulta molto più molto più alta e quindi guardatela qua guardate che gommone che ho qua sull'anteriore bellissimo prova letteralmente superata grande rinaldi uuuu